Ferdinando IV, re di Borbone, re delle due Sicilie, considerava il pallagrello un vino regale, prezioso quanto le gemme di corte. Maria! Maria! La fragranza di questo vino la puoi gustare con le pregiate bottiglie delle cantine Pezza Pane. In località Monticello, a Piedimonte Matese. Per informazioni ed acquisto, consulta il sito Tenuta Pezza Pane.